Ciao, sono Roberta Torre, sono una regista e voglio raccontare la mia esperienza rispetto a questo piccolo spot che ho fatto sulla violenza alle donne. Quando Michelle Unzi, che era Giulia Bongiorno, mi hanno chiesto di poter fare un piccolo spot, un lavoro di cinema, su quella che è appunto una storia sulla violenza alle donne, io ho aderito subito con entusiasmo, perché credo che sia uno dei temi più importanti socialmente parlando dei nostri giorni, proprio perché in qualche modo la violenza non è solo quella fisica, ma è soprattutto quella più profonda, più subdola, più nascosta e credo che ci sia ancora molto da dire e molto da fare. Proprio per questo mi sembra una grande iniziativa quella di poter aprire un concorso a giovani registi, a registi in generale, che parli appunto di questo tema e credo che sia una possibilità veramente importante, proprio perché è un tema molto molto vasto ed è un tema che si può raccontare in tantissime forme. E quindi mi sembra che sia importante fare qualsiasi iniziativa e qualsiasi cosa che possa comprendere, qualcosa che porti a comprendere meglio un fenomeno del genere, non solo in Italia ovviamente, ma in Europa tutta e dunque ben venga questo tipo di iniziativa.